Il tema di cui parliamo oggi è uno dei temi più importanti per il nostro paese, cioè il tema del lavoro. Le garanzie del lavoro, sappiamo, sono state tremendamente attaccate negli ultimi anni, negli ultimi decenni in realtà, ma soprattutto negli ultimi anni, a tutti i livelli, a livello nazionale ma anche a livello locale. Ricordo che il tema di cui ci stiamo occupando oggi ha delle radici profonde nelle riforme che sono state fatte anche a livello costituzionale, su richiesta anche dell'Unione Europea, parlo del pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio inserito in Costituzione riguarda anche gli enti locali, costringe i comuni che non coprano con le entrate le uscite necessarie a dover effettuare dei tagli di spesa. E questo ha comportato non solo a livello nazionale ma anche a livello locale le famose spending review, anche a livello regionale naturalmente, che hanno portato ai tagli in tantissimi settori pubblici e alla narrazione secondo la quale il pubblico, la spesa pubblica improduttiva è spreco, va tagliata, va osteggiata, mentre la privatizzazione è bella, è meravigliosa, funziona, rende tutto più efficiente. A me purtroppo chi ha un minimo di competenza su tagliare la spesa pubblica per uno degli elementi più importanti dell'economia, cioè il capitale umano, perché le persone, i dipendenti, sono capitale umano. Allora, ridurre la spesa attraverso il blocco delle assunzioni, il blocco del turnover che è stato voluto dalla riforma Fornero, lo sappiamo, ed è ancora in vigore, è stato tutto ricorso ad espedienti, quali la collocazione a part time di chi è full time e cose di questo tipo, produce poi degli effetti devastanti su cosa? Sui servizi al cittadino, sul funzionamento della macchina amministrativa e ha delle ripercussioni terribili su tutta l'economia, perché è stato detto nel video di Salvo Pippo che con una grandissima efficacia sintetizza in parole semplici il problema, nel momento in cui non abbiamo persone con dei contatti che consentano loro di lavorare in maniera produttiva, in maniera efficiente e non abbiamo quella diciamo anche copertura di organici della pubblica amministrazione minima necessari per svolgere in maniera adeguata il lavoro che comporta i servizi al cittadino, noi non abbiamo nemmeno le risorse per accedere poi ai finanziamenti europei che dovrebbero finanziare questa stessa spesa. Allora l'approccio di spesa per questo comparto che è quello appunto del capitale umano, dei dipendenti pubblici, della macchina amministrativa è una forma di investimento essenziale per aumentare la produttività degli asset economici pubblici, dei comuni ma anche delle regioni. E se non si inizia a ragionare in questo modo, se non si inizia a capire che questo è fondamentale per non continuare a regredire, ad avere sempre efficienza nella distribuzione dei servizi, oltre che ad un crescente impoverimento della società, della società, della città, della regione, del nostro intero paese. Perché è naturale che ogni soggetto a cui viene tagliato il contratto ha dato un soggetto che non ha più capacità di spesa, che non ha più capacità di consumare. E quindi questo si ripercuote poi a tutti i livelli economici, lo vediamo con la chiusura di tante aziende, la capacità di spesa è ciò che tiene in piedi l'economia, i consumi tengono in piedi l'economia. Quindi come affrontare questo tema? Allora ci sono dei fondi disponibili a livello europeo, nazionale, che sono per il rafforzamento amministrativo. E chiaramente questi fondi devono essere assolutamente percepiti e spesi con qualsiasi tipo di iniziativa utile al raggiungimento di questo fine. E' naturale di Palermo, è oggettivo e quindi questo è il primo grandissimo dossier che dovrà affrontare il prossimo sindaco. Ma sicuramente se non viene data la priorità alla stabilizzazione dei precari, alla conservazione dei posti di chi dà anima e corpo il proprio lavoro, la propria vita a questa città da tanti anni e alla copertura degli organici necessari. Io faccio l'avvocato da tantissimi anni, abbiamo visto anche nei tribunali il carico, l'ammasso di casi della giustizia che è negli uffici dei magistrati, manca personale. Chiudo, vado a concludere. È un tema di importanza cruciale, tutti sappiamo quanto sia difficile, le ricette tecniche, le coperture di bilancio, si devono trovare nel momento in cui si hanno le carte in mano e si ha il potere per fare determinate scelte piuttosto che altre e ci vuole anche la forza politica, la determinazione per pretendere la collaborazione a tutti i livelli istituzionali per risolvere il problema.